Eugenio Barbero per l'Agenzia Italia News, siamo nell'Apple Store di Vede del Corso a Roma, ecco i nuovi iPhone 16 disponibili dal 20 settembre a partire da 979 euro. Qui il modello base con un bellissimo colore blu oltremare, qui abbiamo anche i colori pink, rosa, quindi poi il verde, il bianco e il nero. Questi invece sono i modelli Pro a partire da 1239 euro, 128 gigabyte di memoria e display da 120 Hz, 6,3 pollici. Su entrambi il nuovo tasto laterale per il controllo della fotocamera, principale novità di quest'anno. Colori disponibili il nero, poi abbiamo il bianco, poi il titanio naturale e infine il nuovo colore sabbia. Il Pro Max invece parte da 1479 euro per il 256 gigabyte, fino a un massimo di 1989 euro per un terabyte di memoria. Display 6,9 pollici, cornice ristrette rispetto all'anno precedente, novità principali Dolby Vision 4K a 120 fps e 4 microfoni di qualità professionale. Come lo definisce Apple, uno studio di produzione in tasca.